Questa struttura diventerà sicuramente IPIA e credo che sia una soluzione non temporanea ma sarà alla fine una soluzione che sicuramente potrà essere duratura. Oggi avviene la consegna, immediatamente gli uffici provinciali si metteranno al lavoro per vedere che danni hanno gli impianti e porranno in essere delle opere di risestimazione degli spazi interni al fine di creare 41 aule e 6 laboratori. Abbiamo fatto un progetto e chiaramente è un grosso risultato che scaturisce purtroppo da un dramma, da un grande rammarico che per ora abbiamo dovuto richiudere una delle scuole più belle. Però oggi c'è uno spiraio, finalmente l'IPIA Fermi potrà programmare la propria attività scolastica sicuramente per un altro anno, promuovendo la propria offerta formativa. È una scuola all'interno di una zona industriale dove si possono creare delle sinergie col mondo dell'industria e del mondo del lavoro. Politicamente da domani l'impegno mio del Presidente Dorsi sarà quello di interfacciarci con il Comune di Agrigento e il Comune di Aragona perché dobbiamo ora pensare al sistema di mobilità e di trasporto all'interno di questa zona e dobbiamo pensare pure a creare un collegamento tra la stazione caldare in maniera tale che i ragazzi che vengono a nord potranno agevolmente pure raggiungere la scuola. Dopotutto siamo soddisfatti per questa soluzione, attualmente ci saranno ora i tempi tecnici necessari per poter compiere le opere, però è chiaro che una soluzione nel medio periodo già si intravede. Noi faremo il sopralluogo e vedremo lo stato dei locali. Se ci sono attualmente locali che possono essere utilizzabili direttamente, noi siamo propensi a darli. Mi sembra difficile, velocemente ritengo che tra il sopralluogo, tra la bonifica ambientale che bisognerà fare all'interno, tra il bando di gara che dobbiamo attivare per effettuare le opere, io credo che i lavori ultimati saranno tra giugno, intorno al mese di giugno, luglio, penso. Chiaramente col prossimo anno scolastico posso espormi che senz'altro l'IPia Fermi potrà avere questa sede. Grazie a tutti.